Regione Toscana, il Consiglio regionale Benvenuti al nuovo appuntamento con il Consiglio regionale della Toscana, la rubrica settimanale di TV1 che presenta le attività del Parlamentino della Toscana. È iniziato il 2024 con la prima seduta e noi andiamo subito a vedere il sommario con i temi principali. Tra i temi affrontati dalla seduta del Consiglio regionale le graduatorie nel sistema sanitario. In particolare il Consiglio con maggioranza e opposizione unite in un voto unanime hanno approvato lo slittamento e la proroga delle graduatorie degli operatori sociosanitari per un anno in maniera tale che le aziende sanitarie possano attingere a queste graduatorie per poter fare delle assunzioni. Adesso ascoltiamo nelle interviste dei gruppi politici la posizione su questo tema in sanità. Beh allora intanto sono due temi particolari. La proroga delle graduatorie non era affatto scontata, fino ad ora noi abbiamo avuto pareri contrari da un punto di vista giuridico sulla potestà legislativa regionale circa la possibilità di prorogare le graduatorie perché ci sono delle norme che dicono che durano due anni le graduatorie, quindi non è assolutamente pacifico. Da un approfondimento fatto in commissione nell'analisi del testo presentato abbiamo visto che ci sono dei precedenti comunque dei riferimenti giurisprudenziali di corte costituzionale che sostengono la legittimità e la potestà legislativa regionale circa la possibilità di ampliare la durata a certe condizioni, per esempio la permanenza dei requisiti di professionalità di chi è in graduatorie. Quindi non è una materia assolutamente banale, è la prima volta che si fa, in altri casi in passato, in altre regioni le leggi sono state impugnate quindi abbiamo scelto con una mozione, con un emendamento presentato in terza commissione di limitare a un'unica graduatoria, quella degli OS, che è quella più importante e meno utilizzata che per ora abbiamo per capire e passaggiare anche la sussistenza della potestà legislativa. E questo è il tema che abbiamo affrontato oggi e che abbiamo deciso di affrontare con una legge che non è per niente scontata e che darà a chi è in quella graduatoria un anno in più per poter essere assunti. Per quanto attiene poi alla possibilità di assunzione, non ce lo spieghiamo che vengano assunti tutti coloro che sono nella graduatoria, però è evidente e sappiamo che c'è un limite forte alla capacità di assunzione della nostra regione che ormai ha già superato quello che è il limite, cioè la spesa storica del 2004 di vent'anni fa ridotta dell'1,4. Noi speriamo che venga eliminato, permanente quel vincolo non è un problema d'assunzione degli OS, è un problema d'assunzione di tutto il personale sanitario. Sì, la proroga delle graduatorie degli operatori sociosanitari è un atto importante, una storia che inizia con la nostra mozione portata in Consiglio regionale, è un'azione bipartisan, devo dire la verità, l'ascolto dei territori, l'esigenza di tante lavoratrici e tanti lavoratori, l'auspicio, il sogno di lavorare nel sistema pubblico e soprattutto il monito che facciamo con forza alle aziende sanitarie è che in questo anno questa gradatoria venga utilizzata, ci sia uno scorrimento effettivo, le persone vengono assunte a seguito di una selezione pubblica e trasparente e in questo caso serve fare in modo che queste persone possano lavorare nel sistema sanitario toscano e per l'appunto evitare processi di esternalizzazione, quello che è avvenuto in passato è che molte volte con processi di esternalizzazione poi non si faceva scorrere la gradatoria. Adesso che la gradatoria viene prorogata l'auspicio che venga utilizzata è come tale, si possa coronare di fatto il sogno di tante lavoratrici e lavoratori di diventare dipendenti pubblici del sistema sanitario toscano. Praticamente all'unanimità, questo è un atto di giustizia, è un atto di giustizia nei confronti di persone che sostanzialmente aspettano e hanno investito del loro tempo e non vedono risoluzione in quanto purtroppo le aziende non fanno scorrere queste gradatorie. Per cui noi abbiamo cercato di dargli ancora un anno affinché le aziende prendano coscienza di questo problema. Io personalmente, come tutti gli altri gruppi avevano fatto delle mozioni, nella mia, diverso dalle altre, c'era anche per le altre operatori sanitari, perché gli OSS sono sicuramente il numero maggiore, ma se questa proposta di legge andrà a buon fine e una volta diventata legge verrà riconosciuta senza nessun intoppo, vorrei e ho la Commissione Sanità dalla mia parte che venga estesa anche agli altri operatori sanitari in attesa di poter entrare nel lavoro. Naturalmente, e concludo, il tetto della spesa sanitaria rimane un punto cruciale che dobbiamo risolvere perché l'aggiramento di questo punto di bilancio attraverso degli escamotage è quello che non fa andare avanti la gradatoria e su questo ci impegneremo sia a livello regionale che a livello nazionale. Intanto devo ringraziare tutte le forze politiche perché quando un consigliere di opposizione svolge il proprio lavoro, lo fa bene e viene anche ricompensato con il voto all'unanimità. Sono ormai due anni che Forza Italia si batte per la gradatoria delle OSS, sapete è stato fatto un concorso nel 2021, a quel concorso hanno partecipato più di 4.000 persone, 2.600 sono coloro che stanno oggi in gradatoria, ma purtroppo di quei 2.600 quasi il 10% soltanto è stato chiamato. Quindi rimane un'ambizione legittima, che era di persone che stavano in gradatoria, che avevano partecipato a un concorso pagando anche 10 euro, di essere chiamati nel sistema sanitario regionale. Le gradatorie durano due anni, io ho presentato diversi atti, Forza Italia si è sempre battuta affinché le OSS e gli OSS in particolare venissero assunti nel sistema sanitario regionale dove manca diversi personali. Arrivata alla scadenza, perché il bando scade nel marzo del 2024, abbiamo presentato una proposta di legge alcuni mesi fa, devo dire che tutte le forze politiche in questi mesi hanno lavorato sulla mia proposta di legge, cambiando alcune cose, la mia era una proposta di legge omnicomprensiva per tutte le gradatorie, il Presidente Sostegni in particolare, che ringrazio insieme a tutta la Commissione Sanità, ha fatto un emendamento che ha circoscritto l'ambito legislativo soltanto per le gradatorie delle OSS. Se c'è una potestà legislativa regionale residuale per quanto riguarda le assunzioni delle gradatorie, la Corte dei Conti della Sardegna ci dice che laddove vi sono le gradatorie e non sono esaurite dobbiamo attingere a quelle gradatorie, prorogando anche quelle gradatorie, non ricorrendo per esempio ai medici a gettone perché si risparmia soldi, oggi si arriva a un voto all'unanimità che proroga di un anno quella gradatoria. Certo, l'ambizione oggi non è solo quella della gradatoria, non è solo quella della proroga, ma quella di attingere a quella gradatoria per andare ad esaurire e per assumere quelle 2600 persone che sono risultati idonei, che hanno partecipato al concorso e che ancora oggi stanno aspettando il proprio lavoro. Quindi il primo passo lo abbiamo fatto, Forza Italia ha fatto quello che doveva fare, lo avevamo promesso, abbiamo mantenuto la nostra promessa, abbiamo fatto la legge, la legge è stata approvata, ora però chiediamo alla Regione Toscana di attingere a quella gradatoria, di esaurire la gradatoria e di dare lavoro giustamente a quelle persone che hanno partecipato, che hanno vinto il concorso. Lo scorso dicembre i comuni di Peccioli e Laiatico hanno avuto il referendum per definire la loro fusione dei comuni, ma il referendum ha avuto un esito negativo con il sì che aveva vinto a Peccioli e il no a Laiatico. Il Consiglio regionale ha ratificato nella seduta di inizio gennaio questo risultato ed ha previsto quindi la non fusione dei due comuni. Questo voto, questo referendum è stata anche l'occasione in Consiglio, tra maggioranza e opposizione, per riparlare della fusione dei comuni in Toscana. Il Consiglio regionale ha registrato gli esiti del referendum consultivo che si è tenuto presso le comunità di Peccioli e di Laiatico. Se infatti a Peccioli ha prevalso, seppur di pochi punti percentuali, il voto favorevole alla fusione, nel comune di Laiatico nettamente è prevalso il no, con all'incirca il 68% dei voti contrari. Si è trattato quindi di un referendum che nel complessivo ha registrato una prevalenza dei voti contrari rispetto ai voti favorevoli, quindi tenendo conto di un voto complessivo prevalentemente contrario e di un voto nettamente contrario in uno dei due comuni coinvolti dal percorso di fusione, il Consiglio regionale, con voto unanime, ha deciso di respingere la proposta di legge di istituzione del comune dell'Alta Valdera, una proposta di legge che aveva preso le mosse dalle delibere dei consigli comunali, che aveva portato la Giunta regionale all'elaborazione dell'atto normativo e che oggi tiene conto degli esiti di un referendum, che non era vincolante nella sua espressione, ma soltanto consultivo, ma il Consiglio regionale ha ritenuto di rispettare coerentemente la volontà manifestata dagli elettori. Fieri ed orgogliosi di aver votato contro la fusione dei comuni, un fallimento taggato PD, che avevamo già annunciato quando la proposta di referendum era arrivata in Consiglio regionale. Sapevamo, frequentando quel territorio, frequentando i cittadini sia di Laiatico che anche di Peccioli, che non era vista di buon occhio questa fusione proposta da due sindaci, targati PD, votata dai consigli comunali a maggioranza, targati PD, ma i cittadini manifestavano una volontà di rimanere autonomi, due comuni molto importanti per la Valdera, due comuni anche completamente diversi, anche se vicini. Un comune come quello di Peccioli, molto ricco anche per la presenza di una discarica che appunto è molto attiva su quel territorio. Dall'altra parte il comune di Laiatico, un comune importante, un comune famoso anche per il teatro del silenzio e per Andrea Bocelli, che manifestava a gran voce l'interesse a rimanere autonomo. Quei dati li conoscevamo, ma quei dati hanno confermato semplicemente da parte nostra, da parte mia, che comunque vengo dalla provincia di Pisa e conosco bene quei territori, un dato che già si respirava nell'aria da tempo. Il sindaco di Peccioli ci ha approvato, ci aveva già approvato nel 2013, in quel caso proponendo la fusione con i comuni di Capannoli e Palaia, anche essa non era andata bene, una seconda prova, ma chissà, forse sarà più fortunata la terza. Io mi auspico che non arrivino altre proposte scelerate come fusioni di quei comuni in quell'area, che è un'area che ha tanti problemi, tante criticità dovute anche e soprattutto a un'area coinvolta in smaltimento di rifiuti, come la discarica, non dimentichiamo il tema di Chiani, un comune anch'esso molto vicino, vicino con tutto il tema della grillaia, che non ha bisogno di ulteriori fusioni, non ha bisogno di interessi da parte di pochi e comprare comuni così diversi tra loro solo per gli interessi di pochi. Ha bisogno di amministratori seri che abbiano l'interesse primario, che è quello di fare bene di un territorio che ha bisogno di essere sviluppato e che ha veramente tanto da dare non solo alla Valdera ma a tutta la Toscana. C'è una questione normativa, c'è anche una questione politica e istituzionale. C'è stata una stagione, come sempre nei Cirli, in cui le fusioni apparivano come, soprattutto nell'epoca in cui i comuni erano completamente strozzati dalle regole del bilancio nazionale, apparevano come qualcosa che poteva portare un beneficio che altrimenti sarebbe stato irraggiungibile. Oggi siamo in un'altra stagione rispetto alle questioni che dicevo, anche economico-finanziare. Puri comuni avendo sempre troppe poche risorse rispetto a quelle che sarebbero necessarie per le proprie comunità, senza altro la stagione è diversa da quella di 10-15 anni fa. Quindi c'è questo dato e ricordiamocelo la legge che determina le fusioni e proprio arriva in quegli anni, anche la legge regionale oltre che quella nazionale. C'è anche un ragionamento diverso. Oggi tante fusioni sono andate molto bene e sono esempi positivi. Alcune altre fusioni obiettivamente hanno dimostrato che quando non si crea un percorso di comunità e amministrativo precedente diventa complesso. E anche questo discorso riguarda anche le unioni. Noi abbiamo passaggi di gestione associate, unioni, fusioni, che probabilmente dovrebbero essere e nelle fusioni che sono state fatte al meglio erano questi i passaggi anche lunghi che sono stati fatti. L'ultima fusione che è stata fatta in Toscana è quella del 2018, il referendum e poi l'elezione del 2019 che è Barberino-Tavarnell. Fu un percorso, lo posso ampiamente testimoniare, di quasi 20 anni tra gestione associate, unione dei comuni e quindi servizi insieme e fusione poi successiva. E comunque si trattava di un comune che fino al 1893 era un unico comune. Quindi fu un ritorno più che la fusione di due entità diverse. Oggi siamo dinanzi, anche nell'ultimo caso che abbiamo votato nel Consiglio regionale, a una comunità spesso la più piccola che vuole mantenere le proprie caratteristiche prerogative. Dinanzi a questo credo bisogna ragionare. Siamo giunti al termine di questo appuntamento settimanale con il Consiglio regionale della Toscana. Anche oggi confronto tra maggioranza e opposizione e noi vi diamo appuntamento alle nostre prossime edizioni. Regione Toscana, il Consiglio regionale.